Ciao a tutti, io sono Clara, ho 17 anni e in questo momento mi trovo a Round Rock, Texas e sono qua per raccontarvi della mia esperienza all'estero. Una cosa da sapere sul mio anno all'estero è che io mi trovo nella stessa host family di mia sorella. Infatti mia sorella, 5 anni fa, ha fatto l'anno all'estero e si è innamorata dei suoi host parents e i suoi host parents si sono innamorati di lei, quindi hanno richiesto di poter essere qua io una volta arrivata l'età giusta per fare l'anno all'estero. Loro sono infatti venuti a festeggiare il diciottesimo di mia sorella e spero che verranno anche al mio. Chi lo sa? Praticamente ho due famiglie, una in Italia e una in America. Un'altra cosa che amo da morire dei miei host parents, in realtà due cose, è che sono filippini quindi ho un'altra cultura che sto imparando ed è una cosa meravigliosa perché imparo la cultura filippina, come mangiano, che cosa mangiano, come parlano e è bellissimo perché mi insegnano un sacco di cose in più e il fatto che amino viaggiare, però a quello ci arrivo dopo. Sono partita da Roma il 20 di luglio e poi lo stesso giorno sono arrivata a New York. Ho fatto i welcome days, quindi tre giorni a New York, dopodiché sono partita nuovamente per arrivare in Texas. Durante il volo per arrivare in Texas, una ragazza, un'altra exchange student che viene dalla Germania e si chiama Lara, mi ha detto che avrei dovuto passare qualche giorno nella sua host family perché la mia host family aveva il Covid. Quindi io mi sono trovata a stare una settimana intera con delle persone che non conoscevo però IEF ha trovato una famiglia spettacolare che si è presa cura di me e tuttora parliamo e siamo in contatto e li amo da morire e sono super contenta di aver trovato un'altra host family sulla quale poter contare. Come dicevo prima, i miei host parents amano viaggiare tanto quanto me infatti sono già stata in vari posti ed uno di questi è Chicago. Infatti ad agosto, prima dell'inizio della scuola, siamo andate a Chicago per incontrare una parte della loro famiglia perché loro non hanno figli, infatti io non ho host siblings per cui ho incontrato un sacco di ragazzi e ragazze là a Chicago perché una parte della famiglia è proprio lì. Oltre a Chicago siamo anche stati a Seattle, siamo tornati poi nuovamente a Chicago per Thanksgiving siamo andati in Florida per Disney World dopodiché California per Universal Studios e Disneyland e siamo anche stati in Nevada per festeggiare Capodanno è stato meraviglioso, meraviglioso. In moltissimi mi hanno chiesto quale sia stato fino adesso il mio viaggio preferito però non so rispondere. Non so rispondere perché ogni giorno è un'esperienza completamente diversa anche semplicemente e banalmente a scuola nonostante ogni tanto io non abbia voglia di alzarmi la mattina e di andare a scuola però mi rendo conto di quanto le cose siano diverse e di quanto siano già sei mesi che io sono qua. Le cose vanno veramente velocissime neanche ci si rende conto perché tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo ci sono momenti in cui si è un po' più tristi perché si vorrebbe vedere la propria famiglia, i propri amici però poi ci si rende conto di quanto questo anno sia talmente corto che va vissuto ogni giorno in qualsiasi modo, non deve essere tutti i giorni al massimissimissimo perché non deve essere per forza così ma rendersi conto ogni giorno della fortuna che si ha è veramente importante e fa apprezzare un pochino di più i momenti tristi secondo me. Io quando sono un po' triste penso a quanto io sia felice in realtà di essere qui e di quanto sia stato coraggioso da parte mia e da parte della mia famiglia farmi andare un anno intero in un posto così lontano. Per tutti quelli che si chiedono ma la scuola americana è più facile o no? Sì, è più facile c'è da studiare molto meno però non va presa sotto gamba a volte si crede che dato che appunto è più facile le cose le posso fare dopo sì poi le faccio diciamo che lo stress è praticamente zero in confronto allo stress che la scuola italiana dà lo dico sinceramente perché non ci sono interrogazioni ci sono compiti però tante volte sono con gli appunti aperti o comunque basta parlare con il professore e la professoressa e loro ti aiuteranno troveranno il modo da aiutarti per le amicizie invece dovrete essere voi a spingere un po' l'amicizia perché magari all'inizio i vostri compagni saranno curiosi di sapere da dove venite e come funziona il vostro paese e tutto quanto però poi una volta che hanno le risposte magari non vi guardano più di tanto quindi dovrete essere voi ad avere coraggio e a spingere un po' di più e vedrete che dopo un po' di tempo le cose non saranno immediate ma dopo un po' di tempo le cose andranno per il meglio ve lo assicuro detto ciò spero di aver detto tutto quanto e di essere stata abbastanza chiara vi ringrazio e buona fortuna ciao ciao ciao